Bene, un altro appuntamento finalmente della vita Marazzato a Borgo Vercelli dove c'è una passione per le macchine, i camion, gli attrezzi vecchi. Una collezione eccezionale curata da Carlo Marazzato. Un'occasione questa del 2 di aprile a Borgo Vercelli perché c'è un raduno di macchine Carlo, vero? Certo, c'è un raduno di camion inizialmente corredato dalle macchine. Quest'anno è l'anno Lancia e quindi abbiamo pensato di invitare gli amici di Varallo del club Lancia Story che sono venuti a farci visita con alcuni pezzi purtroppo limitati perché la giornata non ci ha assistito, il clima almeno, però qualificanti, questo sicuro. Loro a loro volta era un anno che attendevano di vedere gli automezzi, autocarri, più che automezzi, autocarri restaurati. Con questa occasione abbiamo messo in esposizione 5 Lancia e Zatao che compito quest'anno come progetto 70 anni. Quindi tra questi e gli altri un certo numero di mezzi è stato esposto alla merce di tutti. Godiamone di quello che può essere il restauro. Anche perché avete creato un'associazione proprio di chi, ecco, il Piemonte nord orientale per adesso, compie un anno, ne avete approfittato anche per andare un po' a mangiare, gustare, a ritrovarsi tra amici insomma. Ecco, un'associazione che raggruppa tantissimi aderenti e che vuole fare che cosa? Ma propriamente vuole portare avanti la tradizione, quello che è la storia, la passione e la storia di tipologie di attività, che è quella del carrettiere, nonché autista, trasportatore, chi fa logistica, tutto quello che è inerente al motore, la carrozzeria e quant'altro. Chiaramente essendo in tanti abbiamo la forza di muoverci, con l'aiuto un po' di tutti, di muoverci, partecipare alle manifestazioni che vengono organizzate nell'ambito dell'Alta Italia, se vogliamo, e quindi invitare a nostra volta poi gli amici, partecipare via. Questo nell'ambito delle manifestazioni. Nei mesi invece dove, per questioni climatiche o perché mesi di ferie o cose del genere, dove non ci si ritrova con i mezzi, abbiamo istituito un ritrovo, se vogliamo, che organizziamo di mese in mese, denominato in cabina. Noi ci troviamo solo amici, presso una carrozzeria, presso un meccanico, presso un ristorante e chiacchieriamo delle nostre cose, delle esperienze che ci hanno raccontato i nostri vecchi, quelle che abbiamo vissuto direttamente o indirettamente. Sì, perché le macchine, ma Carlo Marazzato, la ditta Marazzato, quindi adesso i suoi figli che portano avanti un discorso di lavoro proiettato in avanti con un tipo di specializzazione nell'ecologia, però c'è una raccolta di mezzi, automezzi, pullman, vecchi camion, eccetera, che è veramente un gioiello da descrivere e da visitare. Adesso ne vedremo anche qualcuno di questi. Una grande passione è questo che porta e ti porta a dover andare a trovare tutti questi mezzi in giro, insomma. Certo, andare a trovare intanto le basi e poi trovare gli artigiani che possono ricostruire i pezzi mancanti, perché ormai di ricambistica parliamo di quelli antichi, non quelli degli anni 80, 90, ma quelli più vecchi non si trovano più niente, né l'attoneria né il terro pesante. Quindi ricostruire il tutto, riassemblare e poi rimatricolare, insomma mettere in condizione di poter operare una certa qual sicurezza e dare quindi spettacolo agli amici e a noi stessi, ecco. Ecco, con questi mezzi vai, li portate in giro anche in base alle richieste a farle vedere, perché ricordiamo dei grossi appuntamenti di Vercelli cinque anni fa e di Ivrea, dove c'è stata una marea di persone che hanno seguito e hanno percepito appunto la passione e l'attrazione per questa che è la storia dell'attrazione. Sono alcuni anni, più precisamente, sono quattro anni che organizzo a settembre in occasione di una raccolta fondi per il trompone, che tutti noi vercellesi e anche torinesi conosciamo, ecco, una raccolta fondi dove appunto partecipano tutti i trasportatori o comunque i detentori di mezzi d'epoca, sia camion che vetture e dura due giorni e siamo itineranti in giro per il Piemonte. Normalmente ai primi di aprile si organizzava, e quest'anno è stato rinviato da pochi giorni, il raduno nazionale dell'Iveco a Torino, la CNH, dove appunto il mio interessamento è che partecipino più gente possibile, più trasportatori, più associazioni, perché tutto quello che è il motore è nato da mamma Fiat e deve tornare a mamma Fiat, ecco, quindi Torino è la nostra gran Torino. Siamo qui a casa Amarazzato, che ricordiamo una ditta all'avanguardia, non solo in Italia, appunto detto nell'ecologia e quindi un'azienda la tua che è in continua espansione, è sempre un gioiello proprio del territorio. Ma sì, noi puntando sulla volontà dei tre figli maschi che lavorano indefensamente ormai nell'ambito dell'azienda, come il padre, vabbè padre e i fu, come si suol dire, però lavorando nell'azienda con delle mire sempre superiori, chiaramente oggi sono arrivati ad impegnare a 200 persone, a breve dovremo passare a 280 con l'acquisizione di altre aziende, siamo nel nord Italia, abbiamo dall'escavatore allo smaltitore finale, quindi abbiamo gli impianti di stoccaggio, cerchiamo di darci da fare, ecco, quindi tutto questo è subordinato sempre per aziende di servizi, quindi di trasporti, di trasformazione, motori e quant'altro. Buon lavoro allora, in bocca al lupo alla ditta Marazzano. Grazie, grazie anche a voi.